Buongiorno a tutti, grazie come sempre di essere così numerosi in sala, grazie proprio, grazie a tutti i nostri sponsor, soprattutto a Novartis che ha fatto in modo che questa conferenza oggi venisse effettuata. Grazie a Rete7 che il giovedì e la domenica sul canale 12 della nostra televisione, dalle 10, 10 e 10, le ritrasmette, così abbiamo modo di vederli tutti, grazie all'Associazione Educazione, Prevenzione e Salute che come sempre le organizza. Oggi si parlerà di una malattia abbastanza ormai in aumento. A parlarsene saranno due massimi esperti della malattia della psoriasi, saranno il dottor Paolo Dapavo e il dottor Enrico Fusaro della Città della Salute. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e buona giornata. Buongiorno a tutti, grazie del cortese invito e grazie per la vostra partecipazione. Oggi vogliamo parlare di psoriasi. La psoriasi è una malattia che si sta sempre più affermando grazie anche a quelle che sono le nuove risorse terapeutiche a disposizione per la gestione della patologia della malattia psoriasica e quindi l'interesse nei confronti di questo tipo di patologia è sempre più crescente. Una piccola carrellata clinica per iniziare a capire da dove partiamo. Partiamo dalla cute. La cute è l'organo bersaglio della psoriasi e queste sono alcune delle tipologie di manifestazioni cliniche che noi osserviamo quotidianamente nella nostra pratica clinica. Questo sono io e mio figlio che siamo molto pensierosi. Queste foto mi sono costate un sacco e quindi io ho dovuto metterle visto che era un investimento. Qualche nota di storia. Nel quinto secolo avanti Cristo Ippocrate parla di psoriasi. Parla di lesioni cutanee e desquamative e le chiama psora dal greco squama. Nel primo secolo dopo Cristo Celso e Galeno iniziano a fornire indicazioni sulla preparazione di alcuni prodotti per la cura di questa patologia. Da qui deriva il termine prodotto galenico che voi ogni tanto sentite utilizzare da noi dermatologi. Ma fu nel 1808 che Robert William determinò una descrizione molto accurata e precisa della psoriasi che inizialmente veniva confusa con la lebra di manzoniana memoria. Qual è la prevalenza? Devo dire che la psoriasi è una malattia che si sta diffondendo. In realtà noi pensiamo che già prima fosse a questi livelli di prevalenza e di incidenza ma che una larga fetta di popolazione, almeno un 30 per cento a nostro parere, per la consapevolezza magari che non ci fosse nessuna possibilità terapeutica o per un fastidio non tale da determinare una visita dermatologica, avesse già la psoriasi ma non la manifestasse né al proprio medico di famiglia né allo specialista. Uomo-donna non c'è assolutamente nessuna differenza, contrariamente alle malattie autoimmuni dove generalmente il sesso femminile è più informato e più colpito e i picchi di incidenza sono tra i 30 e i 39 anni e tra i 50 e i 69 anni. La psoriasi veniva definita una volta come una malattia della pelle, anzi addirittura una malattia dei sani e mai definizione, devo dire, alla luce poi del corso delle terapie, degli sviluppi, delle conoscenze fu così sbagliata. In realtà la psoriasi è una malattia infiammatoria a tutto tondo, tanto che noi ormai parliamo di malattia psoriasica. Diciamo che nel mondo l'incidenza della psoriasi è elevata, noi possiamo classificare la psoriasi in due categorie fondamentali, una psoriasi lieve, quando la superficie corporea interessata è estremamente ridotta, è una psoriasi moderata e una psoriasi severa. Siamo nell'ordine, come potete osservare, di questi numeri nel mondo, 85 milioni di persone affette da psoriasi con una psoriasi lieve, mentre psoriasi moderata e severa siamo intorno al 32% del totale, quindi 40 milioni. Quali sono i fattori di rischio? Se voi avete mai avuto un conoscente con la psoriasi, un parente con la psoriasi, avrete sempre sentito dire che la psoriasi era una malattia psicosomatica, cioè legata allo stress. In realtà questa cosa va un po' superata, perché la psoriasi ha alcuni caratteri di rischio ben conosciuti. Innanzitutto è una malattia familiare, il 40% delle psoriasi hanno un carattere familiare, è possibile riconoscere nella famiglia anche non direttamente un parente affetto da psoriasi. Il fumo e l'alcol sono dei fattori scatenanti e da qui deriva il richiamo nei confronti dei parenti psoriasici, al di là delle terapie che noi possiamo proporre, della necessità di un'abitudine, di uno stile di vita adeguato alla situazione della patologia. L'obesità è un altro fattore scatenante, quindi l'aumento di peso non è indicato e questa può essere già una risposta alle eventuali domande sul possibile approccio dietetico alla psoriasi. Penso che questa sarà una domanda che verrà fuori, io vi anticipo già che i soggetti con un BMI, con un peso elevato, sono soggetti che producono più proteine infiammatorie nel loro organismo e quindi la psoriasi è peggiorata. Quindi anche un corretto apporto dietetico è estremamente importante. E poi c'è anche la concomitanza di alcuni farmaci, ho citato i beta bloccanti che sono dei farmaci che sono di frequente utilizzo nei soggetti ipertesi e le infezioni, come vedremo, possono essere anche scatenanti sulla psoriasi. Dal punto di vista dei fattori scatenanti, quindi abbiamo le infezioni, i farmaci, ad esempio i beta bloccanti e gli acidi inibitori, lo stress, che può essere un fattore quindi induttivo, scatenante, ma non la causa della psoriasi, i traumi, che poi vedremo cosa significa il fenomeno di Koebner, e le radiazioni ultraviolette. Apro una piccola parentesi, in passato i pazienti psoriasici venivano mandati al mare, perché si sosteneva, ancora ragione devo dire, che l'elio-balneoterapia, cioè il soggiorno marino, facesse bene alla psoriasi. E questo è ancora vero, almeno nel 75% dei casi, ma esiste una percentuale di pazienti, un quarto, che con l'esposizione al sole peggiora. Quindi anche in questo caso bisogna fare un po' di attenzione. Sempre mio figlio, ma d'altronde mi sono constate. La morfologia della psoriasi. Come si presenta una chiazza psoriasica? La chiazza psoriasica è caratteristicamente rappresentata da un alone ritematoso, cioè rosso, coperto da delle squame che sono strettamente aderenti alla pelle, tanto che il grattamento eventuale induce facilmente un sanguinamento. La chiazza della psoriasi può essere di varie dimensioni e questa può essere definita una psoriasi di natura ostracea. Mi piace ricordare questo termine perché nell'antica Grecia, quando decidevano di ostracizzare uno, non so, non vi piace uno, lo ostracizziamo, lo mandiamo via, venivano compilate queste, il nome, anche Pericle, il grande Pericle fu soggetto a questo ostracismo, su delle tavolette che erano molto ruvide, che si chiamavano ostracos, e da qui deriva questo termine di psoriasi ostracea, cioè molto indurita, molto spessa, che sicuramente è anche estremamente pruriginosa. Quindi una chiazza di psoriasi si presenta in questo modo, con un alone ritematoso e una componente di squame strettamente aderenti sulla pelle. Il dermatologo, quando si trova di fronte a un paziente con psoriasi, per far la diagnosi non ha bisogno di tanti strumenti di indagine. È sufficiente l'occhio per valutare la tipologia della lesione e poi piccoli segni che vengono effettuati da noi dermatologi attraverso un semplice grattamento sulle chiazze, con il segno della goccia stearina, cioè il distacco di questa componente desquamativa dalla cute, e con il segno di Auschwitz, perché come vi dicevo, sono due segni particolari, il segno di Auschwitz è tale per cui se io gratto con una certa continuità una chiazza di psoriasi, provoco facilmente un assanguinamento. Ma uno dei caratteri che ci permette anche di fare diagnosi è il fenomeno di Koerbler. Il nome sembra altisonante, ma in realtà è estremamente semplice. Se io esercito su un paziente psoriasico un trauma, un trauma di una certa profondità, un trauma che può essere dovuto, come vedremo in Sevicto, perché ho fatto due esempi, o da un'infezione anche o da un tatuaggio, posso indurre su questo paziente una psoriasi. Per cui noi, nei dubbi diagnostici, chiediamo al nostro paziente se ha qualche cicatrice da qualche parte, perché in sede di cicatrice, per il fenomeno di Koerbler, si può determinare una psoriasi. Faccio un esempio. Questo paziente aveva una psoriasi, ha avuto una varicella, e questi sono i segni psoriasici dove si sono formate le vescicole di varicella. Quindi l'insulto del virus sulla pelle ha indotto la comparsa della psoriasi. Questo invece è una cosa molto più ludica. Il nostro paziente aveva una psoriasi, gli era stato sconsigliato di fare il tatuaggio, ma sai i giovani sono giovani, decide di fare il tatuaggio e nella sede del tatuaggio segue perfettamente l'andamento di questo vegliero e comparsa la psoriasi. Questo è il fenomeno di Koerbler, cioè su un soggetto psoriasico un trauma di una certa entità, quale può essere un'infezione da varicella, quale può essere un tatuaggio, ma quale può essere anche una ferita lacero contusa, può indurre la psoriasi. Dove si localizza la psoriasi? Perché noi quando valutiamo un paziente cerchiamo alcune sedi caratteristiche dove può essere presente la psoriasi. Allora, la psoriasi si può localizzare a livello del cuoio cappelluto, a livello delle superfici estensorie degli arti superiori e degli arti inferiori, quindi gomiti e ginocchia, però può presentare anche sedi più caratteristiche che noi dobbiamo andare a cercare, ad esempio il padiglione auricolare, cioè il meato acustico esterno, ad esempio la lesione interglutea, ad esempio la regione genitale e poi l'interessamento ungueale. Non è sempre così chiara la diagnosi di psoriasi, nel senso che a volte queste manifestazioni possono essere sfumate, oppure possiamo avere delle localizzazioni palmari, come potete osservare, o plantari. Capite chiaramente che questo tipo di manifestazioni, pur non coinvolgendo un'ampia superficie corporea, sono estremamente invalidanti per una qualsiasi attività di vita, questo paziente era un poliziotto e la gestione del suo quotidiano, impugnare la pistola, spero poche volte, ma già solo la paletta per fare le multe, diventava difficile. Indossare gli scarponi, gli anfibi per fare i vari posti di blocco diventava estremamente difficile. Attenzione alle unghie. Le unghie possono rappresentare anche l'unica localizzazione di psoriasi. Frequentemente l'unghia viene misconosciuta con un fungo e quindi inizialmente i trattamenti riguardano questi smalti di cui potete osservare anche pubblicità, la televisione, ma in realtà non ci troviamo di fronte a un fungo, ma ci troviamo di fronte a una psoriasi. Perché questo può essere importante? Perché la psoriasi ungueale, così come la psoriasi del cuoio cappelluto e la psoriasi delle regioni interglutei e genitali, possono, e di questo parlerà abbondantemente il dottor Fusaro, possono essere predittive, cioè favorire la comparsa dell'artrite psoriasica, che è una delle comorbidità più importanti della malattia psoriasica. Quindi il passaggio di livello della patologia dall'acute alle articolazioni, con un ulteriore impegno per la salute del paziente. E poi possiamo avere anche la psoriasi ungueale. Questo è una caratteristica che ci può aiutare nei casi dubbi per avere un'idea un po' più, diciamo, chiara della patologia a cui ci troviamo di fronte. Quali possono essere le varietà, come vi dicevo, perché la psoriasi è caratterizzata da un polimorfismo molto vario che si possono manifestare? Beh, noi abbiamo classicamente la psoriasi volgare o psoriasi a placche. Sono queste placche eritematose, desquamative, pruriginose, che si localizzano generalmente sulla superficie estensoria degli arti superiori e inferiori. Questa rappresenta la forma, devo dire, più frequente, la forma con la quale noi ci troviamo generalmente nella pratica clinica di fronte. La forma che ci impegna sia come risultato sperato per il paziente, sia come disturbo per la qualità di vita del paziente, perché in genere queste placche sono caratterizzate da una sintomatologia pruriginosa sorda, molto fastidiosa, che non risponde ai comuni trattamenti, ad esempio gli antistaminici. Faccio un esempio che vengono utilizzati per il prurito generalmente, su queste forme rispondono poco. Poi abbiamo la psoriasi numulare, che è una forma molto più diffusa di tutta la superficie corporea e le chiazze, rispetto alle precedenti, sono molto più piccole e di forma rotondoggiante, da nummus, la moneta romana, quindi ricordano un po' l'aspetto di una moneta. Poi abbiamo questa, che è la psoriasi guttata. Come vi ho fatto vedere prima, tra gli eventi scatenanti della psoriasi esistono le infezioni. In questo caso, in un soggetto predisposto alla psoriasi, un'infezione generalmente delle alte vie respiratorie, determinato dallo streptococco, ma può essere anche un altro batterio, può scatenare un'eruzione che si dice guttata, cioè a goccia, quindi di dimensioni molto più piccole, su tutta la superficie corporea. La buona notizia, perché uno quando si vede ricoperto da tutte queste gocce di psoriasi, si preoccupa giustamente molto, è rappresentata dal fatto che generalmente questa forma, caduto lo stimolo infiammatorio che l'ha determinata, va a ridursi, va in remissione spontanea. Però il problema sono le recidive, perché le recidive, in presenza di analoghe situazioni, sono assolutamente frequenti. Un altro esempio è quello della psoriasi invertita. Fino adesso io vi ho parlato di una psoriasi localizzata alle superfici estensorie, cioè all'esterno, ma esistono delle forme che riguardano anche l'interno, quindi la regione sottomammaria, in questo caso è la piega inguinale. Queste forme vengono generalmente, soprattutto nel sesso femminile, misconosciute con le infezioni da candida e quindi i trattamenti topici che vengono fatti riguardano sempre antimicotici. Questa è una forma diffusa, soprattutto nel sesso femminile, soprattutto in una certa fascia di età che va tra i 50 e i 65 anni, una forma molto fastidiosa, molto meno desquamativa. Vedete che qua non si ha la componente desquamativa, ma è la sede che determina la caratteristica dell'apsoriasi. E poi abbiamo delle forme purtroppo generalizzate. Abbiamo pazienti che vengono definiti, in termini scientifici, eritrodermici, cioè in cui la superficie corporea è praticamente tutta occupata dall'apsoriasi. E questi sono quelli che rappresentano un po' più l'emergenza dermatologica, perché questa sintomatologia, questa manifestazione clinica, è in genere accompagnata anche da una sintomatologia febbrile e da un decadimento generale anche della salute del paziente. Questi pazienti si ricorre generalmente all'ospedalizzazione, vengono ricoverati e si cerca con le terapie che abbiamo a disposizione, e fortunatamente adesso rispetto al passato ne abbiamo molto di più, di riportare questa situazione in una condizione normale. Non esiste nessun fattore predittivo che possa dire che un paziente con una psoriasi diventi eritrodermico, ma noi sappiamo che l'uso o meglio l'abuso della terapia cortisonica può essere un fattore favorente l'esplosione della psoriasi eritrodermica. Anni fa, ma molti anni fa, io avevo ancora i capelli, quindi molti molti anni fa, dalla Spagna arrivò un prodotto che si chiamava, si può fare la pubblicità, tanto non c'è più, che si chiamava Skin Cup. Skin Cup venne utilizzato molto dai pazienti psoriasici perché sembrava essere un prodotto miracoloso. All'epoca la legislazione europea non prevedeva ancora che si specificasse quello che c'era dentro il prodotto e quindi i pazienti venivano da noi e ci facevano vedere il miracolo di questo prodotto. In realtà poi dopo un certo periodo di utilizzo abbiamo incominciato a ricoverarli con bruttissime psoriasi eritrodermiche. Nel prodotto c'era del clobetasolo, clobetasolo, il clobesol è il cortisonico più potente, di prima classe utilizzato dei dermatologi. Per cui loro trovando apprezzabile il prodotto lo spalmavano su ampie superfici corporee e poi hanno avuto queste reazioni molto generalizzate. Devo dirvi che ci furono anche delle cause legali che si conclusero nulla per i pazienti che ebbero oltre il danno anche la beffa. Un'ultima caratteristica è la psoriasi pustolosa. Questa è già una variante dove invece delle squame si formano delle pustole. Può coinvolgere anche i bambini, come potete osservare, ma l'adulto, e questa è la caratteristica della pustola, che è una pustola sterile, cioè qui non c'è infezione. Qui invece delle squame abbiamo questa liquefazione, diciamo così, della componente desquamativa e si formano queste pustole che possono essere anche estremamente generalizzate, come potete osservare in questo paziente. Anche questo generalmente è associato a una sintomatologia febbrile e a uno scadimento delle condizioni generali e anche questa viene generalmente ricoverata. La psoriasi rappresenta realmente la malattia dei sani, quindi? In realtà questo mito va sfatato completamente, perché la statistica ci dice che la psoriasi è associata a una serie di comorbilità che sono rappresentate in misura maggiore rispetto alla popolazione normale. Tralascio il discorso dell'artrite psoriasica, ripeto, di cui parlerà il dottor Fusaro, ma è statisticamente significativa la presenza nell'ambito degli psoriasici di una sindrome metabolica e della presenza di obesità, nel senso che classicamente i pazienti psoriasici hanno anche in un 30 per cento dei casi un aumento di peso molto importante. Questo aumento di peso ostacola sia l'approccio terapeutico e sia è un fattore inducente la conduzione infiammatoria, quindi noi, la situazione infiammatoria, quindi noi cerchiamo sempre di stimolare anche i nostri pazienti a un regime dietetico adeguato. Tralascio l'artrite psoriasica ma come conseguenza diretta della sindrome metabolica e dell'obesità anche il rischio cardiovascolare con la pressione alta o eventi cardiovascolari acuti sono maggiormente rappresentati nei soggetti psoriasici. E poi, come potete aver visto prima, le foto, la psoriasica è una malattia importante perché nella nostra società, che è una società molto visiva, molto di relazione, la presenza di questa componente desquamativa non è molto piacevole. Ci lascia in difficoltà anche in quelli che possono essere i rapporti sociali, anche i rapporti familiari e quindi le patologie psichiatriche rappresentate dalla sindrome depressiva, sono sicuramente più rappresentate nei soggetti psoriasici. È come se ci fosse un loop, un circolo infiammatorio per cui ho la psoriasi e quindi tendo ad avere meno cura di me stesso e quindi magari mangio di più, fumo di più, magari bevo un po' di più, aumento di peso e peggiora la mia situazione. Quindi vado incontro a situazioni di rischio cardiovascolare e questo può mettere a rischio la mia salute generale, intanto non mi piace la vita che sto facendo e quindi mi deprimo. Proprio da questo circolo vizioso noi stiamo riuscendo a uscire grazie a delle nuove possibilità terapeutiche perché vedete un tempo esistevano esclusivamente le terapie topiche, però capirete anche voi che di fronte a certi quadri di psoriasi molto importanti spalmarsi di crema tutti i giorni, anche più due volte al giorno, diventa difficile non solo per chi deve uscire e poi andare a lavorare ma anche per chi vive in famiglia. Quindi i prodotti topici che sono pure un caposaldo della nostra terapia vengono lasciati per localizzazioni di psoriasi molto ridotte e sì abbiamo a disposizione ormai delle alternative terapeutiche, direi la fototerapia che può essere in certi casi estremamente utile ma fondamentalmente le terapie sistemiche. Le terapie sistemiche si dividono in due categorie, abbiamo le terapie tradizionali e le terapie biologiche. Le terapie tradizionali vengono mutuate fondamentalmente dai colleghi reumatologi, sono loro i primi che hanno utilizzato questi farmaci e noi da loro abbiamo ereditato la possibilità di utilizzarli e sono rappresentate dal metotrexate, dalla ciclosporina e dalla citretina. Non nascondo che questi farmaci pur essendo utilizzati da anni facciano ancora un po' paura per quel che riguarda gli eventuali eventi avversi che possono determinare ma devo dire che se assunti sotto controllo medico eseguendo gli esami che si devono eseguire periodicamente la risposta terapeutica è sicuramente efficace. Il problema di queste terapie è che sono terapie che hanno una scadenza, un tempo, uno non può pensare di fare per tutta la vita senza interruzione la terapia tradizionale o comunque la può fare ma il rischio di insorgenza di eventi avversi è sicuramente presente. Allora per risolvere questa problematica dal 1997 mi sembra che sia stato il primo utilizzato sono stati introdotti questi farmaci biologici di cui avrete sicuramente sentito parlare di cui io vi do una brevissima anticipazione. Il termine biologico non deve confondere non parliamo né di verdura biologica né di coltivazione biologica sono degli anticorpi praticamente sono prodotti all'esterno per colpire una proteina all'interno che interviene nel processo della psoriasi quindi sono nettamente mirati. Il fatto di essere molto specifici rende ragione del fatto che gli eventi avversi in corso di queste terapie siano inferiori rispetto alle terapie tradizionali e nel contempo rende ragione della possibilità di fare queste terapie anche per la vita, quad vitam, perché questi farmaci nascono per questo motivo. Esistono diverse categorie ma poi se volete nella discussione si entra un po' più nello specifico. Direi che il messaggio fondamentale che mi sento di dare è che per quel che riguarda l'approccio dermatologico l'idea che la psoriasi non sia una malattia curabile è un'idea assolutamente da sfatare. L'idea che la psoriasi non sia una malattia guaribile può essere ma d'altronde neanche la pressione è guaribile, neanche il diabete è guaribile, neanche la mia miopia è guaribile, neanche la mia alopecia androgenetica è guaribile. La psoriasi è una malattia però curabile e abbiamo a disposizione dei farmaci efficaci e sicuri. E con questo vi ringrazio. Faccio io le presentazioni. Cedo la parola al dottor Fusaro che è responsabile della nostra reumatologia. A te Enrico. che è molto gradito perché è sempre molto bello poter fare questi incontri che in questa sala che contiene 250 persone e che è occupata circa per 200 la malattia articolare di cui vi parlo probabilmente è possibile che ce l'abbiano una o due persone ma forse neppure. Quindi questo per dire che le cose che diciamo non devono creare informazioni ma non devono creare allarme. Ci sono malattie articolari molto più comuni a cominciare dall'artrosi di cui siamo affetti tutti diciamo da quando abbiamo compiuto la maggiore età. Per molto tempo abbiamo parlato di artrite psoriasica, di psoriasi artropatica, di psoriasi cutanea. Abbiamo parlato di situazioni in cui veniva posto l'accento sulla componente cutanea o posto l'accento sulla componente articolare. Questo divideva un po' i mondi tra reumatologo e dermatologo e ognuno si occupava della sua parte e comunicava poco con l'altro. In realtà come ha già detto molto bene il dottor Dapavo è molto più opportuno parlare di malattia psoriasica cioè di un complesso di manifestazioni di cui la più comune, la più evidente è quella a carico della pelle e la seconda in ordine di frequenza è carico delle articolazioni però ci può essere un interessamento dell'intestino, una componente psicosomatica e la componente cardiovascolare che è già stata citata e metabolica già stata citata dal dottor Dapavo e la componente infiammatoria a carico dell'occhio. Insomma si tratta di una malattia che può interessare tutto l'organismo, una malattia come si dice sistemica. La causa è sconosciuta ma il meccanismo è dovuto a un'alterazione della funzione del sistema immunitario. Il sistema immunitario che appunto può agire su più organi contemporaneamente con maggiori e minore espressioni. Per cui diciamo che come Trump e il coreano hanno fatto la pace anche reumatologi e dermatologi hanno abbattuto quel muro che li divedeva un po' storicamente e hanno incominciato a lavorare insieme a condividere i pazienti per cercare di curare al meglio la componente della pelle e la componente articolare. Dopo vedremo che cosa significa. Un po' di storia. Il grande vantaggio della reumatologia è che è possibile studiare non solo i pazienti in vita ma anche valutare attraverso lo studio dello scheletro valutare dei resti che certe volte possono risalire alla preistoria e si possono fare delle diagnosi anche nell'antichità su pazienti risalenti all'antichità. Ad esempio questo tirangosauro rex aveva un'artrite, probabilmente una gotta, a carico di un'estremità anteriore. E questo è il nostro paziente più antico, il paziente reumatico più antico che conosciamo. Ma comunque la gotta è stata una delle malattie in generale più studiate nella storia della medicina e anche per la sua netta evidenza, perché comunque il paziente gottoso sta molto male e come un po' tutte le condizioni artritiche. Come diceva il dottor Budapavo, poteva capitare che la psoriasi fosse un po' sottovalutata perché non se ne parlava col medico non era tanto grave eccetera, mentre un paziente con l'artrite sta sufficientemente male per cercare rimedi. La gotta ha aperto la strada a molti studi non solo di reumatologia ma anche di medicina in generale e comunque è stata la prima artrite su cui diciamo l'uomo si è soffermato in termini di studio, di analisi e poi di trattamento. La storia ha raccontato molto sulla gotta e grazie alla gotta si deve l'utilizzo del microscopio in medicina perché l'inventore del microscopio tra le varie cose che ha cercato di guardare, ha individuato dei microbi ma ha individuato i cristalli di acido urico e la gotta ha influito sulla cultura nel senso che è sulla storia. Ad esempio è noto questo aneddoto di questo inglese William Pitt che a causa di un attacco di gotta non ha potuto presenziare a dei lavori parlamentari diciamo così, comunque parlamentari e per cui fu autorizzata una tassa che copriva, che faceva pagare ai coloni inglesi in America i costi della difesa. È tornato in pista e ha cercato di rimediare ma a causa di un successivo attacco di gotta proprio nel momento in cui si doveva decidere definitivamente questa scelta, diciamo così, questo atteggiamento più protettivo nei confronti dei coloni invece è passata questa tassa sul T che poi ha scatenato, ha fatto nascere il Tea Party e ha scatenato la guerra civile americana e quindi al momento buono quest'uomo per due volte non è riuscito a far cambiare il senso della storia. Malattia prevalentemente maschile ma molto legata, l'intuizione che fosse legata a abitudini alimentari era molto, insomma, si era capito molto presto e in un secondo tempo invece è stata legata ad altre abitudini, diciamo così, soprattutto attività erotica, altre passioni sfibranti come dice il migliore, maggiore studioso della gotta. La malattia dei re ma anche la malattia dei papi, la malattia dei re era la regina delle malattie, ancora una volta quindi un'artrite, poi ritorneremo al tema della malattia psoriasica, ma comunque ancora una volta un'artrite giunge alla ribalta anche dell'attenzione della comunità scientifica perché comunque un po' perché ovviamente essendo la malattia dei re era la malattia di persone molto benestanti e di conseguenza era necessario, cioè queste qui volevano essere curate, insomma, e comunque era persino considerata uno status symbol, cioè chi aveva questa malattia vuol dire che era messo bene dal punto di vista economico. Addirittura Cosimo di Medici detto il gottoso, qui un altro esempio di come lo studio di cosiddetta paleopatologia, lo studio degli scheletri ci dia delle informazioni e gottosi celebri ce ne sono stati tantissimi soprattutto perché era una malattia di persone note ed era anche un modo per prendere in giro i potenti nel senso che con tutte le disgrazie che aveva una persona di uno stato di un livello sociale inferiore un tempo almeno poteva ridere del ricco che aveva gli attacchi di gotta. Anche nella medicina, qui torniamo ad altre forme di artrite tra cui l'artrite reumatoide, anche in medicina, anche nella pittura l'artrite viene effigiata. Questo sembra un gruppo familiare in cui tutti stanno, sono in posa per il pittore, ma in realtà se si valuta la mano della donna si vede che ci sono delle tuboinfazioni e le articolazioni sono gonfie forse anche un po' deformate. Anche la nascita di Venere, la mano di Venere sembra un po' gonfia. Però mi soffermerei su questa mano che è apparentemente sana per dire una cosa che riguarda un po' tutte le malattie reumatiche, cioè una sottovalutazione sociale, quello che si dice che i dolori sono come i soldi, chi ce l'ha se li tiene, è un elemento che fa parte della nostra vita perché tutti abbiamo dei dolori articolari, ma un elemento su cui, insomma un po' perché ce l'hanno tutti e la gran parte delle persone non sono granché invalidate, tutto sommato sono percepite come malattie che valgono poco. In realtà sono malattie che sono molto molto invalidanti e una di queste è proprio anche l'artrite psoriasica. Per parlare sempre di storia, Ram 7 II aveva la spondilita anchirosante, tant'è vero che gli hanno dovuto rompere un pezzo di collo che qui non si vede per metterlo nel sarcofago. La reumatologia ha dato anche dei contributi alla storia della terapia. L'estratto di colchicum autumnalis ha prodotto la colchicina che fu per tanto tempo uno dei primi antinfiammatori. L'estratto di corteccia di salice è il precursore della sintesi dell'aspirina che non per niente si chiama acido salicilico. Il primo paziente cui è stato dato il cortisone fu un reumatico e c'è la famosa fotografia, c'è un filmato anzi di un paziente con l'artrite reumatoide che passa dal letto alla bicicletta. Però anche qui vedete questo pittore fu Roald Dufi, dipingeva sempre fiori. Fece questo quadro mentre non era curato e fece questo quadro che chiamò, che intitolò cortisone invece che il fiore che stava, invece di rappresentarlo con il nome dei fiori, proprio per dimostrare che cosa ha prodotto il cortisone. Vedete queste mani completamente deformate, probabilmente dall'artrite reumatoide. Un po' di storia anche locale nel senso che Torino, tra i tanti primati, è anche il primato della nascita della reumatologia italiana con il professor Sante Pisani e il professor Ferdinando Micheli che aprono il primo, che iniziano l'attività reumatologica che era molto legata al termalismo, non per niente il primo ambulatorio è nato ad Acqui. Però a Torino ci fu il primo reumatologo ufficiale che era il professor Ravenna che pubblicò su una rivista molto prestigiosa che c'è ancora adesso e fece due pubblicazioni e purtroppo poi non ne abbiamo più traccia e verosimilmente è morto in un campo di concentramento. Ma Micheli e Pisani furono i precursori, Alessandro Robecchi fu il primo direttore della prima struttura di reumatologia d'Italia qui alle Molinette. Quindi sotto la mole, tra le tante cose che sono nate, c'è anche la reumatologia. Il professor Robecchi, insieme ai suoi due collaboratori più stretti, il professor Danio che poi diventò direttore, il professor Di Vittorio che magari qualcuno di voi anche ricorda e che ho avuto la fortuna di conoscere, di essere suo giovane assistente quando lui era già al termine della carriera, fu tra le persone, tra gli studiosi che contribuirono proprio a individuare l'artrite psoriasica. L'artrite psoriasica che come vedremo dopo per molto tempo era considerata una variante dell'artrite reumatoide. Persone famose con l'artrite, Carla Fracci che è stata anche testimonial, Christian Barnard, il chirurgo che per primo trabiantò il cuore aveva un'artrite reumatoide, un ricordo che abbiamo tutti è quello di Anna Marchesini. Si parla che avesse l'artrite reumatoide da alcuni aspetti della mano, si potrebbe anche pensare che possa avere un'artrite psoriasica, però sottolineerei questo. La Marchesini non ha mai nascosto la sua malattia, ma guardate, non solo le mani sono cambiate, ma la persona è cambiata. Quindi questa è un'ulteriore prova che si tratta di una malattia di tutto l'organismo e non solo dell'articolazione. Questa è la vecchia classificazione che nel 54 andava per la maggiore. Artrite reumatoide, varietà psoriasica. Questo non è solo una questione di nomi, è che se si definisce una malattia al di sotto di un'altra o legata a un'altra, poi alla fine si fanno tutte le considerazioni e i trattamenti sulla base della malattia capostipite. Mentre l'artrite psoriasica è un'altra cosa rispetto all'artrite reumatoide. Io sono molto fiero di ricordare appunto che il gruppo di Robecchi fu tra gli scienziati dell'epoca che contribuirono a questa differenziazione. Veniamo quindi alla malattia in sé. L'artrite psoriasica ha tante manifestazioni e quindi questo complica le cose nella diagnosi e nel trattamento. Nella diagnosi perché ci possono essere delle forme poco riconosciute per molto tempo, ad esempio quella della colonna vertebrale o anche quella dell'interessamento delle articolazioni più distali, cioè più periferiche. Come vedete c'è una forma periferica, cioè significa una forma che interessa soprattutto nell'articolazione di mani, piedi, la spondilite, cioè interessa la colonna vertebrale, l'artrite mutilante che fortunatamente vediamo molto poco, l'entesite, cioè l'infiammazione dei tendini e la dattilite che è l'infiammazione di tutto un dito intero. Qui vediamo altre immagini, l'artrite periferica di ginocchio, la dattilite, vedete il dito cosiddetto salsicciotto, l'entesite con questa, qui siamo sul calcagno, questa particolare lesione a carico del calcagno che lo erode e poi dopo lo trasforma irrigidendo sostanzialmente l'attività, calcificando una parte del tendine e la forma spondilitica, la forma a carico della colonna vertebrale. Qui ho visto meglio una dattilite, dito salsicciotto, questa è l'artrite mutilante, come vedete con delle deformità gravissime e questa è l'artrite periferica. Niente a che fare con questa che è l'artrosi delle mani, nonostante l'apparenza. In questa sala credo che più del 30% delle persone abbiano queste dita con questi nodi subito sotto le unghie. Non è l'artrite psoriasica, come vedete l'artrite psoriasica deforma e blocca le articolazioni, mentre questi nodi qui magari fanno male, ma la mano continua a funzionare. Questo è quello che succede nella forma articolare a carico della colonna vertebrale, cioè una progressiva riduzione e incurvatura con particolari caratteristiche anche di rigidità della colonna vertebrale, il cosiddetto uomo che non guarda mai il cielo, di cui qualche anno fa ci fu anche una pubblicità progresso. L'artrite psoriasica, avendo tutte queste manifestazioni, ha delle cure diverse perché non possiamo curarla in un modo solo. Di conseguenza è stato individuato uno schema terapeutico che tiene presente le varie possibilità. Prima di tutto la malattia dinamica, quindi può esserci un periodo in cui l'interessamento della pelle è maggiore e l'interessamento delle articolazioni è minore. A quel punto comanda il dermatologo e quindi le scelte vengono costruite basate sull'interessamento della pelle. D'altro canto può capitare esattamente il contrario, cioè una fase in cui la componente cutanea è contenuta, la componente articolare è molto più evidente e quindi in quel momento ovviamente comandano le scelte le componenti di impegno articolare. L'artrite periferica risente di uno schema che somiglia molto a quello dell'artrite reumatoide, cioè farmaci convenzionali che in reumatologia, metotrexate, sulfasalazina che il dottor Dapavo ha già riportato e che in reumatologia però si devono inevitabilmente fare cronicamente non a cicli ed eventualmente in caso di insuccesso farmaci biologici con scelte diverse a seconda della risposta alla terapia. L'interessamento della colonna vertebrale non prevede l'uso dei farmaci tradizionali perché non sono efficaci e quindi i farmaci biologici sono praticamente in prima linea oltre gli antinfiammatori. Nelle forme di entesite anche gli antinfiammatori possono funzionare ma molto più facilmente, frequentemente funzionano anche qui i farmaci biologici. I farmaci biologici come ha detto il dottor Dapavo sono stati una svolta per noi perché comunque l'obiettivo non è il controllo dei sintomi giorno dopo giorno, questo è uno degli obiettivi ma non è il principale. L'obiettivo principale è quello che la malattia non progredisca, non vada incontro a quelle deformità che avete visto nelle fotografie precedenti. Quindi mentre il primo obiettivo, il controllo dei sintomi è relativamente semplice e talvolta anche raggiungibile con una terapia più semplice come ad esempio gli antinfiammatori, il vero obiettivo è che questa malattia non vada avanti. Anche perché sono malattie relativamente giovanili, possono comparire in qualunque fase della vita ma soprattutto in età abbastanza giovanile quando una persona ha una vita attiva da svolgere ma soprattutto ha molti anni davanti. E quindi lo schema terapeutico è molto variabile ma comunque è importante che il paziente con un'artrite sia seguito in ambito specialistico come è importante che un paziente dermatologico sia seguito in ambito specialistico altrettanto, cosa che tuttora non sempre succede oppure succede tardivamente. La comunità scientifica reumatologica lavora molto sulla diagnosi precoce, lavora molto sul medico di famiglia ma per l'artrite psoriasica invece il nostro partner è il dermatologo perché è lui che vede molti psoriasici ed è lui che vuole individuare il sospetto dell'artrite e quindi inviarci. Io devo dire che sono molto contento di questa collaborazione che abbiamo sviluppato in questi anni che sta crescendo e che ci permetterà di dare delle opportunità sempre migliori ai nostri pazienti. Questo ci aiutano anche i farmaci certamente ma bisogna dare il farmaco giusto al paziente giusto. Purtroppo per quanto riguarda la reumatologia e i dolori in genere ci sono molti miti e molte frottole anche. In televisione, in molte tv ci sono delle pubblicità che riguardano prodotti oppure macchinari che potrebbero aiutare la componente articolare eccetera. Si riferiscono prevalentemente all'artrosi e non a queste malattie e per queste malattie ci sono delle terapie specifiche che non sono neanche... cioè non ci sono... il paziente non deve prendere 10 compresse al giorno, deve fare semplicemente la terapia giusta che tante volte è veramente limitata magari a un'iniezione sottocutanea o a poche compresse alla settimana. E con questo vi ringrazio. Passiamo direttamente alle domande. Grazie. Da una prima domanda su cui forse non sono stato completamente chiaro, che differenza c'è tra artrite e artrosi? Artrite è l'infiammazione delle articolazioni che viene il più delle volte, anzi, che si sviluppa a causa di una malattia generale che può essere appunto legata a un funzionamento non completamente ben regolato del sistema immunitario oppure può anche originare da malattie metaboliche. Mi riferisco ad esempio alle malattie immunomediate, come si dice, cioè mediate da un'alterazione del sistema immunitario, l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica stessa, la psoriasi, ma ad esempio fattori metabolici come la gotta possono dare appunto una forma di artrite. Quindi l'artrite è un'infiammazione ed è un sintomo di un'alterazione della funzionalità di tutto l'organismo. L'artrosi è una malattia degenerativa della cartilagine che con il tempo, il fattore di rischio più grande dell'artrosi è l'età, cioè con lo sviluppo, con il passare del tempo, l'articolazione va incontro, soprattutto la cartilagine, a una trasformazione che ne modifica proprio la struttura anatomica e che talvolta può dare, da frequentemente dolore e talvolta disabilità. L'artrite è una malattia progressiva che deve essere curata con farmaci specifici, anche l'artrosi è progressiva, però non ha una vera terapia causale, ma dove è però una condizione in cui la prevenzione, cioè il controllo del peso, il controllo delle alterazioni del metabolismo, il movimento, possono fare molto. Allora, ho cercato di dividere le domande su alcune curiosità e su inizio dalla sintomatologia pruriginosa, dove ci sono state ben tre domande. Diciamo che la psoriasi è una malattia infiammatoria, una malattia infiammatoria che coinvolge l'acute nella sua parte superficiale, ma anche nella sua parte mediana e come tale i recettori del prurito vengono facilmente scatenati. Quindi la sintomatologia pruriginosa della psoriasi si spiega anche con tutto il carico infiammatorio che la psoriasi ha. Purtroppo su questa sintomatologia pruriginosa, come ho già detto prima, le terapie esteroidee o le terapie antistaminiche, cioè il cortisone locale o la terapia antistaminica, che possono essere utilizzate in condizioni infiammatorie come l'ezema o cose di questo genere, sulla psoriasi non funzionano. E quindi la gestione del prurito avviene proprio attraverso il controllo della malattia, cioè curando la psoriasi, riducendo il carico infiammatorio, si riesce ad arrivare anche al controllo della sintomatologia pruriginosa. I pruriti classicamente sono tutti serotini, cioè serali. In questo rispondo anche a un'altra domanda che mi è stata fatta, che mi chiedevano il perché questa localizzazione a livello plantare determinasse una sintomatologia pruriginosa soprattutto serale. I pruriti sono soprattutto serotini e quindi nel periodo serale e notturno la sintomatologia pruriginosa generalmente nella patologia dermatologica aumenta. La gestione, ripeto, è sempre una gestione che parte dall'inizio, nel senso che dobbiamo curare la psoriasi per poi spegnere il sintomo e non viceversa. Anche perché le terapie cortisoniche a lungo andare possono determinare una cronicizzazione o un peggioramento della terapia psoriasica. Apro un brevissimo, solo più parentesi, su una domanda che mi è stata fatta su un prurito generalizzato, non rispondente a terapie topiche, all'uso anche di neurolettici come la lirica. Vorrei consigliare a chi mi ha fatto questa domanda che il prurito può essere anche un sintomo di manifestazioni più generali, quindi un'esecuzione degli esami del sangue di fronte a pruriti che non passano si impone. Esami del sangue che devono vertere un po' sullo stato generale di salute del paziente perché esiste il prurito circolatorio, il prurito colestatico, cioè da stasi del fegato, il prurito nel diabetico, quindi possono essere tante le cause che possono scatenare il prurito. Esiste un film famosissimo di Nanni Moretti, Caro Diario, che ha preso in giro i dermatologi dove Nanni Moretti aveva questo prurito molto importante e si ricava da un dermatologo e il dermatologo gli diceva, ma lei è stressato, fai film, è un regista, insomma cosa vuole, prurito, 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 Nanni Moretti poi aveva un linfoma. Ora, e quindi questo per dire, non è per allarmare nessuno e neanche chi mi ha fatto la domanda, ma per dire che il prurito è talmente vario come sintomatologia che prima di attribuire tutto all'aspetto psicosomatico è opportuno un esame del sangue ad ampio spettro per escludere eventuali patologie associati. Una domanda sull'artrosi, per riprendere anche la domanda di prima c'è una grande differenza tra artrite e artrosi nel senso che le articolazioni a fette d'artrite gonfiano, come avete visto e quindi si infiammano. Le articolazioni a fette d'artrosi hanno una componente infiammatoria molto modesta, magari fanno male, tutte e due le condizioni, l'artrite e l'artrosi sono dolorose ma la sintomatologia infiammatoria è molto più evidente, anche molto più dolorosa, ma comunque si vede l'articolazione gonfia, mentre invece nell'artrosi no. Sempre a proposito di artrosi funzionano gli integratori, ad esempio piaschedine. Non ci sono prove scientifiche dell'efficacia di questi prodotti. Ci sono dei pazienti che ne traggono giovamento, ci sono dei pazienti in cui la risposta è nulla. Ci sono molti altri fattori che giocano comunque nel controllo dei sintomi dell'artrosi. Non ultimo il fatto che normalmente le manifestazioni di artrosi hanno dei cicli, cioè c'è una situazione dolorosa che si sviluppa, dura magari qualche settimana, qualche mese, poi se ne va. Cioè l'artrosi non scompare, perché se si fa la radiografia continua ad esserci, ma la sintomatologia dolorosa va incontro a una risoluzione anche spontanea. Gli integratori sono molto diffusi, ripeto non ci sono prove certe, però ci sono dei pazienti che effettivamente ne hanno vantaggio. Diciamo che un tentativo si può fare, se non c'è proposta, magari si può abbandonare. Il tentativo comunque deve essere fatto con una certa durata, almeno due o tre mesi, perché comunque l'integratore ci mette un po' di tempo a sviluppare la sua efficacia. Queste invece tre domande le raggrupperei e devo dire che mi fanno anche molto piacere, perché stanno a significare che ormai l'informazione nell'ambito dei pazienti si sta diffondendo e i nostri pazienti arrivano già a conoscenza, anche attraverso altre vie, non quelle canoniche, dei nuovi farmaci biotecnologici a disposizione. Una delle difficoltà di quando ci approcciamo a un paziente psoriasico è quella sempre di assicurare la cosiddetta aderenza terapeutica, cioè che quanto noi consigliamo venga fatto dal paziente. Avere pazienti che mi parlano di Secuchinumab e Brodalumab, che sono due farmaci biotecnologici, uno già di ampio utilizzo presso i dermatologi e i reumatologi, l'altro in attesa di approvazione, devo dire mi fa molto piacere. Per rispondere alla domanda sul Secuchinumab, vi posso dire, chi me l'ha chiesto, posso rispondere che l'utilizzo di questi farmaci mostra, come ho già detto, un alto livello di sicurezza. Questi farmaci vengono ormai impiegati con estrema tranquillità e soprattutto queste linee cellulari, questi bersagli nuovi, permettono anche al dermatologo e al reumatologo di utilizzarli con estrema maneggevolezza. Meno, molto meno, era il discorso per quel che riguarda i farmaci tradizionali. Non deve essere una preoccupazione neppure il discorso della terapia continuativa, perché questi farmaci nascono per la terapia continuativa. Ormai ci sono dei registri dove vengono registrati i pazienti in terapia. Da anni, noi abbiamo pazienti in terapia con i farmaci biotecnologici da circa 14-15 anni che, comunque controllati, monitorati, però non presentano alterazioni tali da metterci in guardia sull'utilizzo di queste nuove molecole. Quindi queste nuove molecole costituiscono dal punto di vista dell'efficacia e dal punto di vista della sicurezza sicuramente un passo avanti. Esiste addirittura, mi è stata fatta una domanda specifica sul Brodalumab, che è un farmaco che non abbiamo ancora a disposizione. Devo dire che sulla linea della 17, perché il Brodalumab va a coprire questa proteina, proteina 17 in particolare il recettore, noi allo stato attuale abbiamo già ben due farmaci che ci permettono di essere soddisfatti. Però vi posso anche anticipare che la ricerca chiaramente non si ferma e che altri bersagli cellulari stanno per essere individuati o comunque altri farmaci arrivano. Quindi le possibilità terapeutiche sono estremamente varie. Mi inserisco un attimo, perché è una domanda che si ripete, per quel che riguarda l'apsoriasi ungueale. L'apsoriasi ungueale non deve essere considerata solo un aspetto estetico, perché come poi potrà confermare il dottor Fusaro, l'apsoriasi ungueale spesso espia di un interessamento anche articolare, perché l'unghia rappresenta l'ultima parte del tendine, quindi un interessamento ungueale può essere anche espia di una sintomatologia articolare. È anche vero, quello che mi hanno insegnato i miei maestri anziani, che le unghie rappresentano generalmente la tomba del dermatologo, perché le terapie topiche sono poco efficaci, perché a volte una terapia sistemica per solo un'apsoriasi ungueale sembra essere un'esagerazione. In realtà vedendola alla luce di questo aspetto per quel che riguarda l'apsoriasi, cioè come possibile insorgenza o più facile insorgenza di artrite psoriasica, l'apsoriasi ungueale merita di essere trattata all'estregua delle altre psoriasi volgari o a chiazze che si possono avere sul nostro organismo. Tenendo conto che poi un'apsoriasi ungueale che coinvolga tutte le dita delle mani a vedersi non è bellissima e quindi anche nell'atto di una vita di relazione non è piacevolissimo. Sulle terapie dell'apsoriasi ungueale noi comunque rispetto ai topici privilegiamo la terapia sistemica, proprio nell'ottica di poter magari anticipare il discorso della malattia psoriasica articolare. Molto vero, questo poi è uno specchio di una cosa che nella mattinata è emersa più di una volta, cioè che talvolta la malattia è apparentemente di piccole dimensioni, ma in realtà questa presentazione è l'anticamera di un impegno maggiore. Un esempio è proprio quello che ha citato il dottor Dapavo, con il rapporto tra psoriasi ungueale e interessamento articolare. Rispondo a questa domanda. La causa delle malattie reumatiche possono essere alimentari? La causa può essere alimentare? Diciamo che per molte malattie reumatiche la causa è multifattoriale, tante cause giocano insieme. Anche la più legata all'alimentazione, che è la gotta, delle malattie reumatiche, se un paziente rispetta un regime dietetico perfetto, al massimo può scendere di un milligrammo di acido urico. Quindi se è a 10 passa a 9 e non è sufficiente. Perché ci sono altri fattori genetici, soprattutto genetici, che influiscono sulla malattia. Comunque diciamo che il regime alimentare ha un altro aspetto che ha citato già il dottor Dapavo nella sua relazione. Cioè il sovrappeso, la sindrome metabolica, i fattori, l'aumento di peso e quindi l'aumento di tessuto adiposo è un fattore che favorisce, mantiene l'infiammazione cronica. E quindi il controllo del peso fa parte di una terapia complessiva che deve essere fatta. Quindi noi abbiamo, come abbiamo visto, molte armi per curare questa malattia, i farmaci tradizionali, i farmaci biologici, però non deve essere trascurato l'aspetto che e anche il controllo della situazione metabolica contribuisce a ridurre l'infiammazione. Sotto questo punto di vista poi c'è un altro aspetto. Oggi noi parliamo di una malattia infiammatoria, e però il sovrappeso contribuisce anche all'usura delle articolazioni, soprattutto le cosiddette articolazioni portanti, quelle che portano il peso, quindi anche ginocchia e caviglie. E quindi il sovrappeso viene a sommarsi sul danno articolare provocato da una forma di artrite. E quindi il messaggio è che le malattie non sono causate dall'alimentazione, ma un'alimentazione corretta ne migliora moltissimo la prognosi. Queste ho raggruppato ancora altre tre domande che riguardano l'andamento della psoriasi. Se voi doveste fare un grafico per descrivere l'andamento della psoriasi, se lo dovessi fare io, non farei mai una linea retta, ma farei come le montagne russe del parco giochi, perché la psoriasi ha un andamento che viene definito sinusoidale, con dei picchi in cui si scatena e poi delle remissioni, che possono essere più o meno lunghe. Questo è dato dal comportamento del sistema immunitario. Questo rende ragione di due aspetti. Un aspetto in cui la patologia non è sempre identica, nel senso che ci possono essere dei momenti di incendio e dei momenti invece più tranquilli. E' un altro aspetto di migrazione, nel senso che la psoriasi può partire dai gomiti alle ginocchia, ma poi può scomparire da quella sede e passare al cuoio cappelluto o alla regione umbilicale. Cioè la malattia psoriasica è una malattia proteiforme, che decide di manifestarsi in maniera a volte molto irregolare. Sta a noi cercare di controllarla. Faccio un piccolo accello sulla psoriasi invertita, che è per noi quella della regione genitale interglute. È una psoriasi che se voi calcolate la sede interessata rispetto alla superficie totale del corpo, non è una psoriasi definibile grave, ma incide in maniera profonda sulla qualità di vita del paziente che ne ha affetto. E quindi necessita di essere trattata. I farmaci a nostra disposizione, tra cui i farmaci biologici, ci aiutano in questo senso. L'apporto dietetico, cioè l'attenzione dietetica, come diceva il dottor Fusaro, è estremamente importante, perché essendo una psoriasi delle pieghe, qualsiasi aumento di peso può indurre un effetto di macerazione, di irritazione maggiore. E quindi più che un aspetto qualitativo della dieta, direi un aspetto quantitativo. Evitiamo di aumentare il nostro grasso viscerale, quello addominale, perché questo è quello che produce delle proteine infiammatorie che possono indurre la psoriasi. Tutto ciò che facciamo nell'ambito alimentare per gestire questa cosa qua è benvenuto. Un'altra domanda è sui fattori climatici nelle malattie reumatiche. Su questo sono spese molte parole. In realtà nel freddo e nel caldo fai venire i reumatismi, vengono per altri motivi. Situazioni infiammatorie di varie origini, più frequenti immunomediate, situazioni infiammatorie di origine metabolica come può essere la gotta e situazioni degenerative come può essere l'antrosi. Però è esperienza comune, quindi il freddo non fa venire i reumatismi, però è esperienza comune che quando cambia il tempo si sentano più dolori articolari. E questo perché all'interno, nell'articolazione c'è una struttura che è la capsula, che è quella che tiene insieme i due capi articolari e impedisce sostanzialmente che si stacchino, quindi ha una forte componente meccanica per favorire il rapporto tra le due cartilagini che costituiscono l'articolazione. Dentro questa capsula ci sono dei recettori, insomma in termini moderni si potrebbero dire sensori, che hanno una percezione che è legata alla pressione atmosferica. Il cambiamento di pressione atmosferica può dare la sensazione di dolori, però sono dei dolori articolari che non hanno nessuna conseguenza sia sul momento sia sulla qualità della vita futura. Comunque è frequente dire e condivido, quando cambia il tempo io lo sento, ci sono delle persone che effettivamente lo sentono. Le ultime tre domande che ho qua davanti sono delle curiosità. La prima riguarda la porochieratosi attinica di Mibelli. Faccio i complimenti a chi l'ha diagnosticata, perché è una patologia rara che riguarda un disturbo del tessuto corneo, non è così facilmente diagnosticabile. È una patologia che viene trattata, purtroppo non ha una cura definitiva e neanche da linee guida una terapia mirata. Noi utilizziamo un medicinale in genere nella cura della porochieratosi di Mibelli che viene utilizzato anche nella cura della psoriasi che è la vitamina A, la citretina. Invitando il nostro paziente a fare estrema attenzione all'esposizione solare, perché la porochieratosi di Mibelli viene anche definita porochieratosi attinica, cioè legata all'esposizione al sole. Quindi, visto che la paziente che mi fa la domanda ha anche un coinvolgimento a livello plantare similpsoriasico, potrebbe essere utile, oltre che ai prodotti locali, ricorrere a questo derivato della vitamina A. Se esiste una relazione tra un soggetto atopico, cioè allergico al pelo del gatto e la psoriasi, direi che non c'è correlazione anche se sia l'atopia, cioè l'allergia, che la psoriasi sono malattie immunomediate. Forse statisticamente i psoriasici sono anche un po' più atopici, però non c'è una che determina l'altra e viceversa. Se esiste invece una relazione tra psoriasi e gammopatia monoclonale, direi di no, però, è una cosa che va valutata all'atto di un'eventuale terapia. Nel senso che la presenza di una gammopatia monoclonale controllata non cambia assolutamente nulla nella nostra scelta terapeutica, ma c'è un'osservazione che deve essere un po' più attenta nell'ambito della scelta terapeutica. In ultimo, quali sono gli eventuali sintomi della psoriasi? Il sintomo della psoriasi è misto, è un sintomo di prurito e di bruciore. Il prurito può essere manifesto soprattutto nelle zone di confricazione, cioè di sfregamento. Nel senso che il paziente avverte questa sintomatologia pruriginosa. Il grattamento determina, oltre che il sanguinamento, anche la sintomatologia aurente. Quindi è una sintomatologia mista, che ho già detto che può essere gestita non con dei sintomatici, ma curando direttamente la patologia della malattia psoriasica alla base. Io ho finito. Grazie. 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 Grazie.